Allora raga, oggi è ufficiale, stanno impazzendo, stanno impazzendo perché quando vedo da giornali importanti che esce ancora quel nome vuol dire che non ci stanno capendo niente, non sanno come completare le loro pagine di giornali, non sanno che titoli mettere e allora ogni tanto spunta lui. E prima di parlarne iscrizione al canale, pollice in su al benzinero e voglio innanzitutto salutare e ringraziare per le belle parole che ha espresso nei miei riguardi sul proprio video Aldo di Salento e basta, sei un grande Aldo, sei un simpaticone, ieri l'ho chiamato, volevo conoscerlo e mi ha fatto una grande impressione. Detto questo stanno impazzendo, faccio il video dal cimitero perché a questa gente gli sta spappolando il fegato. Parlo della Gaza, oggi stamattina quando sono andato a prendere i giornali per il bar, guardo in prima pagina. Lukaku, Milan su Lukaku. E questo è sinonimo di un giornalismo che siccome il Milan e dal Milan soprattutto non trapela nulla, avete visto anche per quanto riguarda l'allenatore. Nessuno ha parlato fino al giorno che c'è stata la conferenza di Zlatan Ibrahimović. E siccome non trapelano grosse notizie, la Gaza deve rispolverare Lukaku. Un Lukaku che sappiamo tutti che è un giocatore che difficilmente può venire al Milan. Ma loro, tac, a cadenza di 10-15 giorni, bim, Lukaku al Milan. E stiamo impazzendo anche noi, raga, come tifosi, perché anche noi non riusciamo a capirci niente. Non capiamo se stiamo riuscendo a prendere Zizze, chi è il possibile invece sostituto in caso che il Milan non dovesse prendere Zizze. E litighiamo tra noi ed è per quello che dico che stiamo impazzendo. Perché questo non sapere, questa società che non ci fa capire niente, ci fa litigare tra quelli che dicono sono fiduciosi, ottimisti e difendono a spada tratta questa società perché Ibrahimović per loro è una garanzia. E vedrete che questa società prenderà 4-5 giocatori che ci faranno vincere l'anno prossimo. E si litiga con quelli che invece sono totalmente pessimisti e già vedono un Zizze che salta, un Milan da sestimo, ottavo posto. Ed è brutto perché dovremmo imparare a essere tutti un po' uniti tra tifosi del Milan. Ma questa società non ci fa capire niente e anzi l'unica cosa che ci ha fatto capire fino a oggi è stata una mentalità non da vincente con la scelta dell'allenatore. Ed è per questo che il pessimismo dei tifosi, basandosi su questa scelta, va per la maggiore. Io penso che oggi c'è l'80% di pessimisti, il 20% di ottimisti. Un Lukaku, parliamo di Lukaku, che a mio avviso al Milan difficilmente arriverà. Perché se andiamo ad analizzare le parole di Ibrahimović il Milan sarà molto più giovane dell'anno scorso. E allora che c'entra Lukaku? Non lo so, un Lukaku che comunque mi sembra una soprassata. Lo sto guardando con il Belgio, fai vedere le foto, è sovrappeso almeno di 6 kg. È una soprassata. E non lo so, per me rimarrà sempre Luporco, anche se arriva al Milan, sempre Luporco rimane. Poi però, se indossa la maglia del Milan, dovrei sostenere anche Lukaku, per carità. Ma non ci credo. Oggi fatico a crederci. Non dico che non verrà a priori, però faccio fatica a crederci. Conoscendo e avendo capito sì poco, ma comunque qualcosa di questa società. È più possibile che se dovesse saltare Zizze ti arriva un altro giocatore giovane, un Dobby come un David, come giocatori sconosciuti che non costano tanto e che possono essere scommesse. Magari dopo aver visto qualcosa agli europei, dopo aver visto qualcosa alla Coppa America. Ma Lukaku, ancora oggi io lo vedo una cosa strana. Salvo opportunità, cioè un prestito. Allora ho davanti a un prestito neanche troppo oneroso, chi può dirlo? Però, boh, ne parliamo solo perché è sbucato fuori anche oggi. Detto questo, invece il Milan, per quanto riguarda il centrocampo, si sta parlando da qualche giorno di un nome nuovo. Per me la priorità resta Fofanà. Un Fofanà che sta facendo fatica a trovare spazio con la Francia. Un Fofanà che però alla dirigenza piace. È seguito già da tempo da Moncada che ha messo gli occhi su André. Attenzione, questo è il nome che circola da due o tre giorni. Un giocatore che non conosco bene, che però sono andato a verificare, sono andato a controllare. Boh, allora, è sicuramente un giocatore dalle caratteristiche che servono a questo Milan, cioè un recupera palloni. Ha dati importantissimi. 22 anni, giocatore della Fluminense, che allora, attenzione, dicono a livello di passaggi e passaggi riusciti a numeri pari a quelli di Cross e di Rodri. Non vuol dire, attenzione se no poi mi prendete per le chiappe, non vuol dire che sia forte come Cross e Rodri. Stiamo parlando di numeri di passaggi riusciti. Ha il record mondiale di palloni recuperati. A noi ci serve un recupera palloni, uno che faccia da collante tra il centrocampo e la difesa. Praticamente il fren che sì, che tanto ci è mancato. E questo ha recuperato 406 palloni in questa stagione. Questi sono numeri importanti, sono numeri di un ottimo giocatore. L'unico mio punto di domanda è, un giocatore che ha questi numeri, un giocatore che, detta da tutti, è forte. Un giocatore valutato 25 milioni. Perché non è nella nazionale col Brasile e gli vengono preferiti altri giocatori? Cioè perché io dico un giocatore di 22 anni, rampa di lancio, adesso sento qualche giornalista in Italia, ne parli benissimo, però non è neanche ancora nel giro della nazionale. Per esempio c'è Ederson, che sarebbe il giocatore su cui io punterei. Per me Ederson sarebbe un giocatore che mi darebbe delle garanzie lì in mezzo al campo, di quantità e di qualità. Per oggi si parla di questo giocatore e quindi è giusto parlarne, è giusto dire la propria raga, arrivasse Andrè? Lo guarderei con curiosità. Alla fine non sapevamo neanche i renders che giocatore era. Sì, ne avevamo sentito parlare tutto quello che volete. Eppure è un ottimo giocatore che sta disputando un grande europeo. Di Andrè se ne parla bene, arrivasse, dobbiamo vederlo, dobbiamo giudicarlo dalle partite che disputerà col Milan. Sempre Forza Milan raga, iscrizioni al canale mi raccomando e ci vediamo nel pomeriggio. Nel pomeriggio voglio parlare di una cosa, vi spoilerò un po' il video del pomeriggio. Qua stanno ogni partita Raffa Leao alla lente di ingrandimento puntato e ogni partita lo stanno anche giustamente massacrando. Però ci sono dei giocatori che in Italia vengono calcolati come grandissimi giocatori che stanno facendo un europeo scandaloso e di quello non se ne parla. E allora ne parlo io raga, sempre Forza Milan. Let's John Let's John